Grazie a tutti. Per me, che in Italia è una grande compagno di grande azienda della Repetizione, consiglio a noi, a voi, a te, di non trirsi sui noi, ma anche nella sua dottrina, e di essere viviti al pane, da un'unica messa e della santità. Per il nostro Signore, il Gesù Cristo, il nostro figlio di Dio, il vivere di attore te, in un'unica nel nostro figlio di Dio, per il segno e il segno e il segno. Grazie. 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 Grazie a tutti. Dopo aver passato a parlare della ricordata, con il mio amico di amare della chiesa del cuore, presentiamoci a Dio un po' di lucidizia, perché contentiamo il Signore, gloria, 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 gloria. Fate e contempliamo il Signore, gloria, 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 gloria Noi che ti preghiamo a fare con te, Signore, nella tua gloria. Signore, uomini accettati dalle loro passioni, non danno le conoscette della bellezza e della bellezza che le cercano. Illumina da loro e apre i loro occhi e, in verità, preghiamo a fare con te, Signore, nella tua gloria. Ognun uomo è sempre in te, donna e in natura, in natura, in natura, in natura e in natura, noi ti preghiamo a fare con te, Signore. Signore, Dio, dobbiamo sapere vedere le loro bellezza e le loro bellezza, perché la tua gloria che ci comanda, a fare le loro bellezza, perché 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 le loro bellezza, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.